Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi è mercoledì 16 dicembre 2020, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come tutte le mattine vi informa con la selezione di notizie più importanti a nostro avviso, a nostro giudizio, quelle che commenteremo tra pochissimo dopo il santo e le previsioni del tempo, cominciamo dal santo di oggi, oggi è Santa Delaide, il sole sorgerà alle 7.40 e tramonterà alle 16.33. Trebimeteo.it, perturbazione se vicino all'Italia, prime deboli piogge e neve su alcune regioni, seconda perturbazione nel fine settimana, ci sono aggiornamenti, tendenze importanti anche per quanto riguarda la Natale, ma nel dettaglio la regione Marche oggi sarà interessata soltanto da qualche isolato e breve rovescio durante la notte al primo mattino, limitatamente alla zona di montagna, Carpegna, da quelle parti là, per il resto attenzione alle nebbie, il resto sarà giornata di sole con un po' di nuvole, così come domani giovedì e venerdì ancora formazione di foschi e banchi di nebbia, tempo buono anche nei prossimi giorni. Allora, cominciamo dai giornali, frase shock di Guzzini, a un certo punto durante un convegno online ha detto, la situazione è grave, pazienza, la situazione è grave per quanto riguarda l'economia, pazienza se qualcuno muore, è scattato chiaramente un pandemonio, un putiferio, di questo parlano i giornali questa mattina, Corriere Adriatico, tutte le edizioni della regione apre con questa fotonotizia la frase di Guzzini che diventa poi un caso nazionale, pazienza se qualcuno muore. Ma l'apertura dell'edizione pesarese è per lo screening di massa, l'obiettivo è testare 37 mila persone nella provincia, tre punti a Pesaro e due a Durbino, le modalità per l'accesso al test. Ecco l'iter da seguire, l'appello delle istituzioni locali, invitiamo i cittadini a cogliere questa opportunità senza timori. Stretta di Natale, oggi si decide, dopo il summit con i governatori, qui al momento l'unica cosa certa è che sarà un Natale blindato. Violenza, botte e insulti, l'inferno in famiglia condannato a Fano ma è libero, sulle terme e ritocchino così Carignano sarà il centro di bellezza, per le città inquinate la nuova frontiera sono i polverometri e in fondo di taglio basso pausa pranzo con sesso, clienti anche da Ancona, escort in appartamento a Sassonia e zona Porto a Fano, le verifiche sui contratti d'affitto delle abitazioni. Carlino di Macerata, Guzzini shock, scivolone dell'imprenditore durante un incontro online, nel mea culpa sono addolorato, insorgono sindacati e social, l'Associazione Nazionale apre una procedura, ipotesi dimissioni. Carlino di Ancona, tragedia al Porto, capo operaio si getta nel vuoto dopo aver ricevuto una telefonata. Carlino Pesaro, terapia intensiva in cantiere, sopralluogo a San Salvatore, nuovi posti letto, ce la faremo per l'11 di gennaio, questa è la fotografia del cantiere nella palazzina F dell'ospedale pesarese che ospiterà terapia intensiva e semi-intensiva Covid. L'apertura, tamponi di massa, tutte le regole, si parte venerdì in città e ad Urbino, quindi a Pesaro e a Urbino, esercito di volontari in campo e questa, bisogna dirlo, è un'occasione unica da non perdere. Vittime del Covid, la storia, mio padre è morto ma dico grazie ai nostri medici e poi il funerale, addio Venturi, ora cammina nell'eternità. Il caso Marche Nord invece, l'azienda ospedaliera, Saltamartini, l'assessore non affonda l'azienda, lo vedremo dopo e quindi stoppa un po' la fuga in avanti di Aguzzi che aveva detto l'azienda Marche Nord non è un dogma e poi oncologia, anche la politica in campo serve chiarezza, contagie, vittime, triste, primato per la provincia, si commentano i dati di ieri, calo di concentrazione, VL, l'autocritica di Tambone, a ragione Repegia, la squadra in qualche modo ha perso la concentrazione, invece sul calcio oggi in campo fanno recupero ad Arezzo, quasi uno spareggio. E allora ripartiamo da qua, ripartiamo da questa notizia dal Carlino con la frase, le frasi, la frase shock che è stata criticata da tantissima gente. Andiamo sul resto del Carlino, qui siamo a pagina 2, si riparta, pazienza se qualcuno vorrà il titolo, ma vediamo nel dettaglio che cosa ha detto Guzzini ieri online. Allora ha detto ci aspetta un Natale molto magro perché stanno pensando addirittura di restringere ulteriormente, questo significa anche bloccare un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimettendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un po' stanche di questa situazione e vorrebbero alla fine venirne fuori, anche se qualcuno morirà, pazienza. Ma così secondo me diventa una situazione impossibile per tutti. Ecco, questo è il passo dell'intervento di Domenico Guzzini, presidente della Confindustria Macerata nel corso del forum Made for Italy di lunedì che ha scatenato appunto il finimondo. Guzzini ha 61 anni, presidente di Confindustria Macerata dallo scorso 24 gennaio, quando ha preso il posto di Gianluca Pesarini e laureato, laureato in economia, presidente nonché direttore marketing della Fratelli Guzzini di Ricanati, azienda che produce oggetti per la casa a livello internazionale. Ed è il nipote del più famoso Adolfo Guzzini. E che cosa dicono di queste frasi, alcuni personaggi intervistati dal Corriere invece Adriatico. Per esempio il ministro Boccia ha dichiarato, ha detto, valutazioni così fanno male, in tanti sono indignati. Claudio Schiavone invece, presidente di Confindustria Marche, prima vengono le persone, poi le persone e la salute, poi le aziende. Mentre Giorgio Lignani, presidente della CNA di Macerata, ha definito queste parole, parole disumane e niente può giustificarle. Acquaroli, presidente della regione Marche, una frase infelice, non rappresenta il suo pensiero. Acquaroli ha anche dichiarato di conoscere Guzzini e di essere convinto in qualche modo che quello che ha detto non è il suo pensiero, ma il pensiero ormai è uscito dalla sua bocca e quindi le cose dette le ha dette, le abbiamo lette e quindi credo che le dimissioni a questo punto siano l'atto di pentimento forse più giusto da fare. Andiamo invece adesso sulla pagina di primo piano delle Marche, sempre del Corriere Adriatico, perché si parla di questa nuova stretta natalizia. Ora in queste ore, forse oggi sapremo di più, oggi e domani, se davvero saremo costretti a rimanere in casa il giorno di Natale, Santo Stefano e quant'altro. L'Italia nella zona rossa, vietato gli spostamenti, vedremo se le date che ci sono in ballo saranno confermate, quella del 24, dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, poi dal 5 al 6 gennaio, quindi diciamo le date più importanti, da valutare anche dal 19 al 20 insomma. Adesso servono, chiaramente il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico farà ancora delle valutazioni, ci sono dei pressing importanti anche dalle regioni, avete visto anche la frase di Guzzini, certamente è il sintomo che gli imprenditori sono ormai a livelli di esasperazione tali che poi fanno dire cose anche che non stanno né in cielo né in terra, ma questo è il termometro della situazione e quindi non possiamo nasconderlo. Chiaramente il Governo sta cercando in qualche modo di trovare la soluzione a questo problema, anche perché ieri mi diceva per esempio un ristoratore che se questi non dicono nulla, loro i ristoratori possono tenere aperti i ristoranti il giorno di Natale a pranzo, non a cena, ma a pranzo devono fare la spesa, devono comprare il materiale, le cose per cucinare, se non sanno di che morte morire è chiaro che tutto diventa difficile. Come fanno a fare la spesa se non sanno se il giorno di Natale o Santo Stefano saranno aperti o chiusi? Capite che lavorare in questo modo non è una cosa semplice. Tre settimane in zona arancione, meno contagi, ma negli ospedali si sono liberati solo 20 posti letto. Le restrizioni non hanno attenuato la pressione sul servizio sanitario. Qui si fa un po' il confronto tra la terza settimana di novembre e la seconda settimana di dicembre e si cerca in qualche modo di mettere a confronto i numeri che sono quelli che poi vengono presi in considerazione, numeri freddi, ma vengono presi in considerazione dai famosi tavoli tecnici. In questo riquadro si può vedere come la situazione tra novembre e dicembre sia comunque migliorata rispetto al passato, rispetto a novembre. Feste con il lockdown, con la chiusura totale. Gli scienziati si dividono, tocca il governo decidere il giro di vite, il comitato tecnico scientifico appoggia la linea del rigore, ma evita di suggerire provvedimenti concreti per evitare i contagi. L'esecutivo è spaccato, oggi il tavolo di confronto con le regioni. Conte resta vago, dice ci sarà un ritocchino con misure ulteriori. Tamponi di massa, questo è importante, l'appuntamento tra qualche giorno si comincia venerdì, quindi tra due giorni, tre giorni, al via per il più imponente screening di massa che la città di Pesaro abbia mai vissuto. Il traguardo è quello di testare almeno 28 mila persone da venerdì 18 a mercoledì 23 dicembre, ovvero poco più del 30% della popolazione che vive a Pesaro e il 50% dei cittadini di età superiore ai 6 anni di età che non ha sintomi e non ha avuto o contratto il virus in precedenza. Dunque ci sono tutti i dettagli che vi abbiamo raccontato anche noi nel telegiornale di ieri presentati in conferenza stampa questi screening di massa. È una grande operazione ma anche una grande opportunità che vedrà impegnate anche tantissime persone, tra sanitari, volontari, tutti in campo, chiaramente con delle regole che il giornale questa mattina pubblica nelle pagine interne dell'edizione pesarese. Poi Covid, via allo screening, anche qui siamo sul Corriere Adriatico, l'obiettivo è testare 37 mila persone, tre punti a Pesaro e due ad Urbino, le modalità per l'accesso al test e l'iter sanitario da seguire, l'appello delle istituzioni locali che dicono invitiamo i cittadini a cogliere questa grande opportunità perché lo ribadiamo sono test che però sono liberi quindi soltanto chi si vorrà sottoporre volontariamente a questo test lo potrà fare con delle regole però ben precise che abbiamo visto anche ieri nel corso della rassegna stampa. Sul giornale ci sono anche i tre punti per esempio a Pesaro dove poter fare questo screening di massa. A Pesaro sono, abbiamo detto, la Vitri Frigo Arena, il campus scolastico e l'alberghiero Santa Marta, mentre a Durbino Bocciodromo con quattro postazioni e il collegio Raffaello con due postazioni. Sull'azienda ospedaliera Marche Nord, Stefano Guzzi, l'assessore regionale, aveva detto non è un dogma, ma gli risponde questa mattina Salta Martini, dice non è detto, l'assessore corregge un po' il tiro dopo la fuga in avanti del collega Guzzi e decideremo tutto nel nuovo piano sanitario. Marta Ruggeri dei Cinque Stelle dice posizioni contradditori che non ci tranquillizzano, però chiaramente, insomma, adesso diciamocela tutta, Salta Martini con l'azienda ospedaliera Marche Nord, essendo l'assessore regionale di riferimento, ci deve lavorare con l'azienda ospedaliera, non è che può dire, sì, ha ragione a Guzzi, possiamo anche chiuderla, perché comunque da qui alla chiusura eventualmente passeranno ancora tanti 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 mesi e in questi mesi l'assessore regionale deve lavorare con l'azienda Marche Nord, quindi è chiaro che non possa dire che l'azienda ospedaliera si può anche chiudere e di conseguenza, insomma, non c'era bisogno adesso di andare avanti con tutta sta polemica. Allora, contagi invece a casa Roverella, i primi pazienti trasferiti per l'emergenza sono coinvolte anche le strutture private, i casi sono in crescita, titola il Corriere Adriatico. Sull'aborto invece, sempre il Corriere, questa mattina, sapete, nelle settimane scorse l'assessore regionale alle pari opportunità Giorgia Latini, vedete nella fotografia, aveva detto, aveva preso posizione sull'aborto e oggi invece mette i paletti, bisogna rivedere i consultori, dice, avvieremo una verifica di compatibilità delle linee guida del Ministero della Salute con la 194, fa sapere l'ex deputata della Lega appunto Latini, perché riteniamo che i consultori debbano essere luoghi di assistenza ed approfondimento, non invece di esecuzione dell'interruzione di gravidanza, che come previsto dalla legge invece deve rimanere soltanto in ambito ospedaliero, dove le modalità di ricovero saranno demandate alla valutazione del medico e della direzione sanitaria. Il riferimento è alla somministrazione della pillola RU486, che però da una prima ricognizione non avverrebbe nei consultori marchigiani. Vi voglio soltanto leggere questo articolo di Martina Marinangeli, nella quale si evince anche un po' la situazione dell'anno scorso per quanto riguarda gli aborti. Nel 2019 le interruzioni volontarie di gravidanza nella Regione sono state 1450 in totale, a fronte delle 1537 del 2018, di cui 122 nell'ospedale di Urbino, 170 a Senigallia, 42 a Iesi, 27 a Fabriano, 105 a Civitanova, 253 a Macerata, 129 a San Benedetto, 216 ad Ascoli, 178 nella rete d'impresa dell'area Vasta 2, 136 a Pesaro, 42 a Fano e 30 al Salesi di Ancona. Sulle donne vittime di violenza, il triste primato della provincia di Pesaro e Urbino. Tutto questo nasce ovviamente come analisi dalla tragedia di Novilare. Viene dalla nostra provincia, il 30% dei casi denunciati nelle Marche, in Regione ricorda Simona Porceddu uccisa dal marito qualche giorno fa. Preso con la marijuana, qui è la cronaca a pagina 11 del Carlino, fumo perché sto male, il giovane pesarese arrestato davanti al campus scolastico, in casa gli trovano a Fano altra droga e un bilancino di precisione, patteggia sei mesi, lui dice non ho lavoro, poi ha ammesso di cedere la sostanza solo per guadagnare i soldi, per assicurarsi il quantitativo di cui ha bisogno. Carlino Fano, test in farmacia boom di prenotazioni in vista delle feste post esaurite ovunque per tutta la settimana, ma l'ipotesi dell'isolamento spaventa molto, quindi molte hanno paura di questa roulette, nel senso che se poi risultano positivi, ma uno dice sto bene, mi tocca stare a casa 15 giorni, forse di più, insomma fanno due conti e dice meglio non sapere, tanto sto bene e tiro dritto così. Ecco questo è un pensiero che non va fatto, perché comunque se abbiamo la possibilità di fare questi test, cosa che non avevamo invece nei primi mesi della pandemia, adesso ce li abbiamo, queste possibilità, sfruttiamole e quindi cerchiamo di... e poi se c'è la positività, Amen, si sta a casa e ci si organizza in qualche modo. Però questo è un discorso egoistico che va superato, quello del non farlo io non so e quindi vado avanti, tanto sto bene. I risultati vengono trasmessi al portale dell'Asur, se la diagnosi rileva un contatto recente con il virus, chiaramente poi scatta il tampone molecolare. Allora sulle terme di Carignano, termi bisturi, Carignano rinasce, sarà centro di chirurgia estetica, la svolta, il gruppo romani con 800 mila euro ha ottenuto i due lotti all'asta. Ora c'è da dire però che questo è un dato importante che scrive Massimo Foghetti questa mattina sul giornale, dunque è intenzione del gruppo che ha comprato queste terme, ovviamente tutta quest'area molto importante, costruire un nuovo albergo e investire su strutture ludico-sportive che possano rendere piacevole il soggiorno nella piana dell'Arzilla. Se poi ci sarà un campo da golf, un maneggio o altro questo si vedrà. Però è importante il dato che nell'hotel Quattro Fonti, quello che c'è attualmente lì, nel capannone dell'imbottigliamento fanno parte dei lotti acquistati. Due sgambatoi invece a San Lazzore e Santorso, previsto un doppio investimento stanziati 50 mila euro per sistemare via Garibaldi e poi terme il sindaco accelera subito il tavolo con i privati. Seri era stato contattato nei giorni scorsi da Maurizio Natali, lo sviluppo del progetto è strategico per il territorio, l'assessore Guzzi dice collaboriamo. Il gruppo romani guidato appunto da Natalia, 120 giorni di tempo per versare dopo la cauzione altri 420 mila euro più IVA. Insomma diciamo che per come era partita l'asta qualche tempo fa, si era partiti se non ricordo male da 2 milioni di euro per vendere tutto quel terreno eccetera eccetera, insomma a 4,50, 4,20, adesso il Corriere dice 800 mila, loro un po' meno ma comunque sia l'affare credo sia stato fatto. Il Carlino oggi torna a parlare del sesso a pagamento durante l'ora di pranzo e delle case a luci rosse come si dice giornalisticamente che sono state scoperte nella zona del Porto e nella zona di Sassonia a Fano. Adesso emergono i particolari, alcune prestazioni non stop, la clientela che arriva anche ad Ancona, verifiche sui contratti d'affitto delle abitazioni delle escort, è stata espulsa un'asiatica che ora rischia anche il proprietario di casa. Appuntamenti presi in anticipo, poi bastava uno squilla al telefono per il via libera. Mentre sulle classi che sono a Fano in quarantena c'è un buon risultato che è quello che dà oggi l'assessore all'istruzione che è Mascarin che dice le classi in quarantena sono scese da 7 a 4. Ci sono ancora l'Uni a casa a San Lazzaro, anche a Sant'Orso, però Mascarin parla di situazione fluida che quindi potrebbe anche ulteriormente migliorare. Teppismo invece e danni in piazza Redi, qui torniamo a Pesaro, individuata la gang di ragazzini, sarebbero circa una decina di età tra i 10 e i 14 anni, in larga parte nemmeno imputabili. La Polizia Municipale ha rintracciato i loro genitori, partirà da qui l'unità di strada dei servizi sociali di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Poi il Comune non abbandonerà via fermo, l'assessore Nobili interviene sui problemi legati al degrado, ma quell'area è difficile da riconvertire. Lotta all'inquinamento, la nuova frontiera si chiama polverometri, questa è una cosa nuova, installati a Miralfiore in Vianitti, il consigliore Gambini scettico sulle scelte dei siti, tempi lunghi per gli esiti del monitoraggio, intanto nel 2020 registrati 28 sforamenti. Sulla ciclabile da realizzare nell'ex ferrovia Faruntbino, pure il Ministero ha dubbi, dice così l'assessore regionale Baldelli sul progetto della passata amministrazione, ora rivisto, arriva l'altolà di Biancani che vedete nella fotografia, enormi problemi allontanando la pista dai binari. Per il nuovo tracciato serviranno molti espropri, si rischia di perdere 4 milioni e mezzo di euro. Poi per chi ci segue da Pesaro, allora anche le mogli dei pensionati, quelli che vanno a fare l'orto, potranno andare a raccogliere, non so cosa si raccoglie in questo periodo, ma comunque nell'orto degli anziani, qualche cavolfiore probabilmente, ma insomma c'è questa novità nel regolamento degli appezzamenti cittadini, della Dora dice in città ne sono stati assegnati 428, 80 persone sono in lista di attesa, quindi c'è questa novità nella gestione degli orti cittadini, in città queste persone potranno andare, adesso anche le donne, le mogli potranno andare appunto nell'orto. Le marche a riposo invece c'è un pensionato per ogni lavoratore, bilancio sociale dell'Inpsi con quota 100 l'anno scorso, 4.500 persone hanno lasciato il lavoro e il numero di chi riceve l'assegno previdenziale ora raggiunge quello dei contribuenti, quindi pari patta. Covid a Urbino, i test rapidi dal 18 al 23, anche Urbino abbiamo visto fa parte nonostante non sia tra le città con più di 20.000 abitanti, ma è stata inserita in questo screening di massa, nella città ducale scatta il controllo sulla popolazione, previsto per i capoluoghi, postazioni come abbiamo detto al collegio Raffaello e all'ex Bocciodromo. Poi massima prudenza, chi è negativo dovrà rimanere prudente, ci si presenta con il modulo compilato, c'è un modulo da compilare per fare questo screening di massa. L'itinerario diventa archeologico invece, siamo a Colli al Metauro, il programma che è stato ideato da Confcommercio si allarga al patrimonio storico e alle città sotterranee. La presentazione nell'ex chiesa del Trionfo Saltara, Varotti dice il percorso valorizza le risorse e poi Baldelli, servizi ospedalieri decisivi per le aree interne. Bcc Metauro e Uniurb, sussidiarietà e finanza, domani l'evento in streaming. Arma per il comandante russo è l'ora dei saluti, siamo a Terre Roveresche dopo 40 anni di onorato servizio, gli ultimi 8 dei quali al comando della stazione di San Giorgio di Pesaro, diventata poi Terre Roveresche. Da oggi è in congedo il luogotenente cariche speciali, Antonio Russo. Al suo posto, alla guida della stazione, c'è ora il luogotenente Antonio Meduri, già vicecomandante dei Carabinieri di Colli al Metauro. Guardate questa fotografia di un albero, un albero realizzato con 2.800 quadrati di lana, è un albero posizionato in questa piazza a Mondolfo, che però è circondato dalle auto, assediato anzi dalle auto e quindi scatta la protesta dei cittadini. Al lavoro per realizzare questo albero decine di volontari. Poi sempre dal Corriere Adriatico, frontone, buoni spese per le famiglie, il bando scade, ecco come fare. 8 i comuni coinvolti dall'ambito sociale 6. Poi San Lorenzo in campo, riaprono 10 biblioteche con norme anti-covid, i diversi finanziamenti hanno permesso di allestire aree dedicate. Da Senigallia gli hotel hanno perso un cliente su tre, ora si punta tutto sulla maxi stagione, meno 35% di presenze tra gennaio e agosto, il comune tre mesi in più con sgravi sulla Tari. Bora Bora all'ultimo rilancio, lo stabilimento balneare giudicato per oltre un milione dopo un braccio di ferro. Sempre da Senigallia, Corriere e Carlino, opere pubbliche, domani arriva il ponte 2 giugno. Il comune dà il Via Libera agli interventi su Via Le Garibaldi, strada Roncitelli, Rebus su piazza Simoncelli. Anche la chiusura dell'ex pescheria per renderla visibile tutto l'anno. E poi ecco un'offerta per lo chalet Bora Bora, oltre un milione di euro, ora il curatore valierà la proposta. Chiudiamo con la pagina dello sport, il Fano, Fano che oggi gioca una partita che vale uno spareggio salvezza. Alle 15 si recupera la gara contro l'Arezzo, ultimo in classifica, Granata contati e affaticati ma possono distanziare gli avversari. Dunque scimia infortunato, lungo al posto di Marino, Orrillo in difesa, questa la formazione, appuntamento in campo allo stadio Città di Arezzo alle ore 15. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20.30 con il nostro telegiornale e poi alle 18.30 con Babbo Natale. E l'appuntamento ormai da non perdere per tutti i bambini marchigiani e non solo marchigiani perché abbiamo visto che attraverso internet, attraverso Facebook poi arrivano telefonate anche da fuori regione, l'ultima mi pare da vicino Napoli o da quelle parti, giusto Riccardo? Anche da Napoli ci hanno chiamato, ecco ho visto che ormai... E poi c'è anche una bella novità che vi dirò nei prossimi giorni a proposito di Fano TV Extra Regione, ma questo ve lo dirò, ve la tengo come sorpresa di Natale, come regalo di Natale. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Grazie per la visione!